SEMBENUA 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 Perché non posso andare a San Benua con i miei amici? Ma no, ti assicuro che non ti piacerebbe. È tutto preciso, perfetto, non un capello fuori gusto. Ma sì, è come se fosse... Ma a me sembra bello. Ma no, non è veramente bello. Cos'è questo casino? Che cosa state facendo? Cosa ci facevi in giro? Allora, bambini, le signore della mensa vorrebbero sapere chi fra di voi è in situazione di arabità familiare e a tendenza musulmana. Vabbè, chi mangia maiale? Milo non si sentiva bene, è malato. Entrerà alla media del San Benua. Vogliamo il meglio per nostro figlio, è normale. Corentana ormai è l'unico della sua classe. L'unico cosa? È l'unico bianco. Lo stai veramente dicendo a me? Un mix per essere un mix, deve essere un vero mix. Se non è un mix, non è un vero mix. Mi spiego? San Benua è il nostro protettore. Ma la scuola è adatta anche ai non credenti. Io sono un avvocato e lui è un musicista professionista. Fa parte di un gruppo musicale. Amadeus 77. Io adoro Mozart. E vedo anche che avete fatto un video. No. Sembra non esistano scuole per quelli come noi. Tu non sopporti nessuno, te ne freghi di tutto e non credi in niente. Hai tirato fuori i tuoi principi di merda. I figli hanno bisogno di noi. Il vostro non sente la sua mancanza? Sta male, sta male tutte le mattine prima di andare a scuola. Sono un padre di Berta in questo momento. Bravi, bravissimi! Sta bene, è con i suoi amici. Se quelli come voi se ne vanno, per noi è finito. Grazie a tutti.